Dovrà rispondere di resistenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale il 35enne pregiudicato Giuseppe Sterrantino, originario di Messina ma residente a Taormina, arrestato ieri sera all'interno di un locale di via Francavilla nella frazione taorminese di Trappitello. L'uomo in evidente stato di ebrezza stava importunando ormai da tempo dipendenti e clienti del bar. Uno di questi ultimi ha così chiesto aiuto alla centrale operativa della compagnia di Taormina che ha inviato sul posto una pattuglia del nucleo radiomobile. Nonostante l'arrivo dei militari però il 35enne non si è dato per vinto, proseguendo le molestie. Quando i carabinieri hanno chiesto il documento di identità, Serrantino ha rivolto loro frasi ingiuriose e minacce, proseguendo anche nella caserma di Giardini Naxos dove è stato condotto per gli ulteriori controlli. Minacce rivolte anche contro i sanitari del 118 intervenuti per accertare l'effettiva alterazione psicofisica. Il 35enne è stato così trattenuto in una delle celle di sicurezza in attesa di essere giudicato per direttissima.